ma c'è il cuore c'è bisogno di correre papà buongiorno cavaliere labbro ciao stefano saluto mio papà si certo presenterò ciao nino ci vediamo si ciao oggi può venire che è pericoloso che puoi spaccare la faccia il figlio viene con me e tu ti piacerebbe mangiarti un cannolo se vuoi tu certo che voglio allora nino tutto bene tutto bene che cosa no dico a scuola tutto bene ah si certo tutto bene grazie lo mangio un altro cannolo darci un altro cannolo piccino allora nonno tutto bene guarda ho macchiato le putte stanotte dico vuoi sapere se ho visto a mamma no niente apparizione bravo bravo nonno dimmi una cosa nino ti ricordi che quest'estate mi avevi chiesto quel ciclo motorino il motorino e tu mi dici sti de no vabbè ti dici de no perché eri ragazzino ora sei cresciuto dai soddisfazione a papà e te lo voglio comprare e sei contento si ma non mi interessa non lo voglio tutto attento ma hai fatto il diavolo a cuaccio è una spesa inutile poi è pericoloso avevi ragione tu hai capito avevo ragione io ciao 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 chi è quella la sorella di porcello ciao potete dare l'appuntamento qua papà ma che dici dai bella ragazza ti piace eh neno che c'è che fai qua che vuoi ancora ma lo vedi che ora sono va in camera tua fattele te ne vuoi andare guarda che se non te ne vai chiamo tuo padre no No, no. No, no.